Poche righe per definire il nuovo corso del Teramo, che sarà in mano alla famiglia Ciaccia e alla loro società, la MGAT Italy S.P.A. Comunicato apparso alle 17.48 sul sito web della società Biancorossa, il presidente Franco Iachini si legge, comunica di aver in dato odierna sottoscritto l'accordo preliminare per la cessione della quota di maggioranza della SS Teramo Calcio ad un gruppo di imprenditori facenti riferimento a MGAT Italy S.P.A. e che lo stesso rimarrà in carica nel suo ruolo di presidente. Un preliminare che a stretto giro porterà dunque ad un passaggio definitivo. Saranno Mario e Davide Ciaccia a prendere le redini del diavolo e con ogni probabilità, aspettando che l'accordo venga formalizzato, la certezza è che la parentesi di Franco Iachini sembra andare in archivio dopo due anni e mezzo, durante i quali l'impegno dell'attuale massimo dirigente è andato via via a farsi meno imponente dal punto di vista economico. Nella prima stagione, quella 2019-2020, quella per intenderci del passaggio da Campitelli all'attuale proprietario con un esborso enorme per la costruzione di un organico che fu affidato all'epoca a Bruno Tedino per un torneo che doveva essere di vertice. Gli oltre 1000 abbonamenti, record per la città, furono la risposta ad un nuovo corso che prometteva successi e investimenti. Quell'annata culminata con un ottavo posto, un cambio in panchina di Mascio per Tedino e un'eliminazione al primo turno play-off per manno del Catanzaro diede il via ad un parziale ridimensionamento nell'annata successiva, quella con in panchina Massimo Paci, adesso ancora di più con Federico Guidi e con una rosa sempre meno costosa per cercare di rendere il diavolo appetibile di fronte ad un possibile acquirente. Nuovo corso dunque che potrebbe essere molto diverso da quello che è stato fino a questo momento, da quello che trapela una possibilità sarebbe quella di un'acquisizione di una percentuale intorno all'80%, 81 per la precisione, perché il piano prevederebbe un primo step da 51 e 49, con i Ciaccia subito in maggioranza e gli Achini con una consistente minoranza. E' un ulteriore 30% che gli Achini lascerebbe ai nuovi proprietari nel corso di questa stagione. A fine 2021-2022 dunque si arriverebbe ad una situazione di 81 e 19 in favore degli imprenditori fiugini, ma questa è una condizione ancora tutta da verificare. Quello che conta è che adesso per il Teramo si apre una nuova fase.